BIT 2014, Borsa Internazionale del Turismo. Dal 13 al 15 febbraio. In tuo business, al centro del mondo. Lo stand della Puglia è sempre tra i più visitati in ogni edizione, anche quest'anno si conferma questo trend, tra l'altro questo angolo delle masserie didattiche è sempre affollatissimo. È un piacere aver puntato in maniera positiva, decisiva per il brand Puglia. In effetti, come lei diceva, è una riconferma del fatto che raccontare il territorio attraverso le masserie didattiche che raccontano, che spiegano i prodotti tipici della nostra regione e il modo come trasformarli in piatti tradizionali è sicuramente la carta vincente. Abbiamo registrato anche quest'anno un'affluenza enorme di giornalisti e addetti ai lavori che vogliono partecipare a questi cooking show per conoscere meglio la nostra Puglia, i suoi prodotti e le sue tradizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.